Tutti d'accordo ad Aieta a conclusione della terza edizione della scuola estiva 2013 giornate d'Europa. L'Europa si conosce, si ama, si costruisce dal basso attraverso una cultura, un progetto ideato dall'associazione socio-culturale centro rinascimento rivolto a laureati e studenti universitari, un corso quello di quest'anno dedicato al tema Europa, una nessuna e centomila, unione e disunione. Dopo giorni di intense lezioni e dibattiti, nello scorso fine settimana si è dunque conclusa la più recente Summer School. Alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, il presidente dell'associazione, Gennaro Cosentino, ha tracciato il bilancio del percorso formativo. Gli Stati Uniti d'Europa sono per adesso un'ambizione, ma penso che l'Europa degli europei stia andando davvero molto avanti. Il deficit riguarda la politica, riguarda la governance ed è su questo che bisogna lavorare, perché non dobbiamo dimenticare che l'idea di Unione Europea nasce da un desiderio di pace, soprattutto dopo la guerra, dopo il fascismo, dopo i regimi e allora bisogna lavorare per questo, per creare l'Europa dei popoli superando le criticità e partendo dai giovani. Ricco il palcoscenico dei relatori. Abbiamo cercato di costruire un modo di guardare l'Europa, che è sicuramente una istituzione politica con molte difficoltà in questo periodo, ma che forse necessita di una generazione di giovani che già si sentono molto europei, giustamente, che la conosca meglio. Alto il grado di soddisfazione degli studenti che hanno reso vivo il corso. Sicuramente è proprio i temi su cui si è dibattuto di più, non pensare solo agli aspetti positivi, ma soprattutto affrontare le criticità, perché solo conoscendo i problemi si possono affrontare e quindi riuscire a creare quello che forse ancora oggi manca, quindi una cultura europea, un'identità europea. Uno scambio culturale con altri studenti, con altre persone comunque che lasciano un'esperienza che forma. Dal fronte istituzionale, il sindaco di Aieta, Giovanni Ceglie, ha ribadito l'importanza del meeting. Sono esperienze da tre anni a questa parte che hanno portato molto lustro al paese, quindi c'è un particolare gradimento da parte dell'amministrazione comunale, ovviamente c'è stato e c'è un gradimento da parte della popolazione. Sono circuiti virtuosi, questi, che mettono in condizione il paese di farsi conoscere. Grazie. Grazie. Grazie.